Ciao a tutti, di cosa parliamo oggi? Parliamo ancora di pompe. Questa volta parlo di pompe, ma non tanto delle varie tipologie di pompe, ma tipicamente come controllare il corretto funzionamento di una pompa. Quando avviamo un nuovo impianto, tipicamente succede con le nostre centraline, con i nostri sistemi di termoregolazione, uno dei primi scogli da superare è quello di innescare correttamente e far funzionare correttamente la pompa. Si procede riempiendo l'impianto prima di tutto con il fluido dedicato, che sia esso acqua, acqua glicolata, olio, quello che serve. In sostanza cosa si fa? Non si fa altro che riempire completamente il circuito o fino al livello minimo o sopra il livello minimo o alla pressione indicata dal manuale. In sostanza, quando abbiamo riempito l'impianto, possiamo partire con l'avviamento della pompa. Bene, il primo avviamento di solito si dà un piccolo colpetto di start e si controlla il senso di rotazione della pompa. Questo è importante perché se la pompa ruota nel senso opposto al senso corretto di rotazione, si danneggia la tenuta meccanica. Se la pompa gira nel senso errato, non si fa altro che invertire uno dei tre fili di alimentazione, ovvio sto parlando di motori trifase, e la pompa girerà nel senso giusto. Arrivati a questo punto possiamo avviare la pompa. Andiamo solitamente a strozzare la saracinesca che è posta in mandata sulla pompa. Strozziamo la saracinesca, avviamo la pompa e controlliamo il manometro che è posto sulla mandata della pompa. Il manometro deve essere stabile, ovvero presentare una lettura della pressione stabile. Solitamente quando si avvia un impianto avremo presenza di bolle d'aria, quindi questa lettura non sarà stabile. Sarà una lettura un po' ballerina? Diciamo così? Certamente. Arrivati a questo punto cosa bisognerà fare? Ad aprire leggermente la saracinesca in mandata, fermare la pompa, sfiatare l'impianto dai vent, dai vari sfiati che troveremo sulle tubazioni, e quindi far ripartire la pompa. Quest'operazione va ripetuta fino a quando non vedremo che il manometro posto in mandata alla pompa non è stabile, ovvero la lancetta è fissa sul suo valore. Arrivati a questo punto si tratta di mettere in curva la pompa. Andremo a leggere sul manuale la pressione di lavoro indicata e andremo a misurare gli ampere assorbiti della pompa. Bisognerà in pratica controllare che aprendo la saracinesca in mandata si generino le perdite di carico tali per cui la pompa rimanga comunque in assorbimento, ovvero posti la portata di acqua, di fluido, di progetto senza uscire dai parametri di assorbimento del motore. Ovviamente se dovesse uscire dai parametri di assorbimento del motore questo ne provoca un danneggiamento. Tutte queste operazioni solitamente su un impianto ad acqua sono molto semplici. Quando invece parliamo di pompe per olio diatermico o per olio idraulico la cosa si complica leggermente perché l'olio è più viscoso quindi ci impiega più tempo ad andare a occupare tutti gli interstizi, a riempire tutte le tubazioni e probabilmente ci troveremo con delle bolle d'aria presenti nell'impianto anche per qualche ora. Quindi dovremo ripetere questa operazione più volte fino a quando non vedremo una pressione stabile in mandata alla pompa. Questo significherà che non abbiamo più aria nell'impianto e la pompa e l'impianto possono funzionare correttamente. Spero di essere stato chiaro, in ogni caso se non fosse così scrivetemi pure. Grazie!